De Sade, la filosofia nel boudoir, terzo dialogo. Ragionate un momento, Eugenie. Come avrebbe potuto riprodursi la specie umana dopo le grandi sciagure del nostro globo se non attraverso l'incesto? Non ne troviamo l'esempio e la prova perfino nei libri rispettati dal cristianesimo? Le famiglie di Adamo e di Noè come avrebbero potuto perpetuarsi in un modo diverso? In una parola, se l'amore nasce dalla somiglianza, dove potrebbe essere più completa se non tra fratello e sorella, tra padre e figlia, una politica malintesa, originata dal timore che alcune famiglie diventassero troppo potenti, ha proibito l'incesto nei nostri costumi. Ma non dobbiamo esagerare fino al punto di considerare legge di natura quanto è dettato soltanto dall'interesse o dall'ambizione. Sondiamo il nostro cuore. È lì che sempre rimando i nostri pedanti moralisti. Interroghiamo quest'organo sacro e riconosceremo che non vi è niente di più delicato dell'unione carnale all'interno delle famiglie. Smettiamo di chiudere gli occhi sui sentimenti di un fratello per la sorella, di un padre per la figlia. In vano l'uno e l'altro li occultano sotto un velo di legittima tenerezza. L'amore più violento è l'unico sentimento che li infiamma, l'unico che la natura abbia riposto nei loro cuori. Raddoppiamo, triplichiamo dunque senza timore questi deliziosi incesti, convinti che più l'oggetto di nostri desideri ci sarà vicino, più incantevole sarà goderne. Un mio amico vive abitualmente con la creatura che ha avuto dalla propria madre. Meno di otto giorni fa ha sverginato un ragazzo di tredici anni, frutto della sua relazione con la figlia. Tra qualche anno lo stesso ragazzo sposerà la madre, secondo i desideri del mio amico, che prepara per loro un destino conforme ai suoi progetti. È intenzionato, lo so, a godere anche dei frutti che nasceranno da quelle nozze. È giovane e può sperare di riuscirci. Vedete, mia dolce Eugenie, di quanti incesti e crimini si sarebbe macchiato quel brau uomo del mio amico se ci fosse del vero nel pregiudizio che simili legami siano delittuosi. In una parola, in tutte queste cose io parto sempre da un principio. Se la natura proibisse i godimenti sodomitici, i godimenti incestuosi, le depravazioni, eccetera, permetterebbe forse che noi vi provassimo piaceri così forti. È impossibile che essa possa tollerare ciò che veramente la oltraggia. Eugenie, o miei divini precettori, vedo bene che secondo i vostri principi esistono ben pochi crimini sulla terra e possiamo abbandonarci in pace a tutti i nostri desideri, per quanto singolari possano sembrare agli sciocchi che, offendendoci, allarmandosi per ogni cosa, scambiano stupidamente le istituzioni sociali per le divine leggi della natura. Ma nonostante ciò, amici miei, ammetterete almeno che esistono certe azioni assolutamente rivoltanti e decisamente criminali, anche se dettate dalla natura. Sono d'accordo con voi che la natura, tanto singolare nei suoi prodotti, quanto varia nelle tendenze che ci ispira, ci spinge talvolta ad azioni crudeli. Ma se, abbandonandoci alla depravazione, cedessimo agli impulsi di questa bizzarra natura fino al punto di attentare, per esempio, alla vita dei nostri simili, converrete anche voi, spero, che tale azione sarebbe un crimine. Dolmanzè Ci mancherebbe, Eugenie, che convenissimo su una cosa simile, dal momento che la distruzione è una delle prime leggi della natura. Nessuna azione distruttiva può essere considerata un crimine. Un'azione che serve così bene alla natura, potrebbe mai oltraggiarla? Questa distruzione, di cui l'uomo si vanta, è puramente lusoria. L'assassinio non è una distruzione. Chi lo commette non fa che variare delle forme, e restituisce la natura degli elementi di cui l'abile mano della natura si serve immediatamente per plasmare altri esseri. Ora, poiché le creazioni non possono essere che un piacere per chi vi dedica, L'assassino ne procura dunque uno alla natura, le fornisce materiali che essa usa all'istante, e l'azione che alcuni sciocchi hanno avuto, la follia di biasimare, diventa un merito agli occhi dell'artefice universale. È il nostro orgoglio che ci fa credere di poter elevare l'assassinio alla condizione di crimine. Ritenendoci le prime creature dell'universo, abbiamo stupidamente pensato che ogni lesione a questa sublime creatura dovesse necessariamente costituire un crimine enorme. Siamo arrivati a immaginare che la natura perirebbe se la nostra meravigliosa specie scomparisse dal globo. Al contrario, la sua completa distruzione, restituendo la natura alla facoltà creatrice che ci presta, le ridarebbe l'energia che noi le sottraiamo con la nostra propagazione. Ma quale incongruenza, Eugenie? Ma come? Un sovrano ambizioso può distruggere a suo piacimento e senza il minimo scrupolo i nemici che nuocciano ai suoi piani di grandezza. Leggi crudeli, arbitrarie, autoritarie possono sterminare ogni secolo milioni di individui e noi, deboli e sventurate creature, non potremmo sacrificare un solo essere alle nostre vendette o ai nostri capricci. Esiste qualcosa di altrettanto barbaro, strano e ridicolo e noi non dovremmo vendicarci di quest'inezia sotto il velo del più profondo mistero. Grazie.